La progressione tecnologica che abbiamo avuto negli ultimi anni è stata una progressione interessante, siamo fortunati perché apparteniamo ad un gruppo che dedica il 5% del proprio fatturato in R&D, quindi con un impegno economico di questa portata siamo a livelli ben oltre la media del settore di riferimento. Con questo impegno economico sull'R&D hai un aggiornamento e un continuo sviluppo del prodotto e quindi siamo tra quei pochi fortunati che possono presentare delle nuove tecnologie sul mercato e questo ha fatto sì che da quando abbiamo aperto questo ufficio nel 2012 progressivamente abbiamo proposto sempre tecnologie più performanti sul mercato italiano. Il 2019 è un ulteriore tassello di questa crescita continua che stiamo avendo all'apertura e nonostante un mercato veramente sfittico per quanto riguarda il TV per il 2019 noi stiamo continuando a crescere, crediamo intorno al 12-13% di crescita sul business del TV ma la cosa sempre più interessante è che la percezione della marca anche forse grazie a questa proposizione di una qualità che comunque si presenta sempre in una fascia medio-alta in termini di qualità seppur con un prezzo ragionevole per quello che è ormai il trend del prezzo medio del mercato fa sì che la percezione della marca è sempre più diffusa quindi ci gratifica molto poter proporre al mercato segmenti medio-alti ma il fatto che il sell-out di questi prodotti regga un buon ritmo quindi vuol dire che anche la risposta all'utente finale sta andando nella giusta direzione. Sin dall'inizio noi abbiamo cavalcato l'onda dei grandi schermi e sarà sempre più così nei prossimi anni quindi ci siamo connotati sin dall'inizio a partire dal 43, 50, 55, 65 oggi stiamo cavalcando anche il 75 nel mondo 4K ci siamo entrati tra i primi sul mercato italiano quindi sin dall'inizio abbiamo spinto su una fascia che non è proprio una fascia di bellissimo prezzo o di piccolo polliciaggio all'IFA di Berlino abbiamo presentato l'XD, l'8K, il laser TV che vanno su fasce da 100, 120 pollici, 130 pollici è una tecnologia nella quale crediamo tantissimo per i prossimi anni perché andando sempre nella direzione dei grandi schermi secondo noi la proposta che il mercato offre all'utente anche se per una nicchia di potenziali acquirenti è ancora molto scarsa e quindi lì vorremmo ritagliarci una nostra fetta proprio grazie allo sviluppo che abbiamo fatto negli anni passati sulla tecnologia del laser TV ora all'IFA 2019 abbiamo presentato la nuova gamma che verrà immessa sul mercato nel 2020 con audio sullo schermo, una tecnologia 4K applicata ripeto con schermi 100, 120, 130 ci sarà anche lo schermo da montare a parete e stiamo predisponendo anche tutto un servizio di installazione presso la casa dell'utente finale ovviamente per supportare un prodotto che non è un only box ma è un qualcosa di particolarmente diverso per quanto riguarda il laser TV li abbiamo presentato 6 modelli tra questi 6 modelli noi ne porteremo a casa probabilmente 3 o 4 le fasce prezzo per il 2020 saranno interessanti perché saranno ampiamente sotto 10.000 euro per laser TV 4K con schermo attivo installazione inclusa ripeto avremo il prezzo che ti ho dato per un 100 pollici poi avremo la disponibilità anche del ora siamo in definizione con 120 o 130 e quindi qui si apre una partita un po' diversa seppur orientato ad una nicchia di mercato perché ovviamente chi può permettersi una spesa o un 100 pollici da mettere in taverna piuttosto che nel mondo B2B forse non è grandissima anche se è un pubblico che aumenterà sempre di più questo lo stiamo vedendo banalmente proprio negli ultimi anni 43, lo spostamento da 43 al 50, al 50 al 55 al 55 al 65 oggettivamente in qualche caso ha il limite fisico ma l'abitudine alla visione su schermi più grandi ormai è una tendenza che proseguirà negli anni e quindi non dobbiamo tenere conto di quello che è oggi il mercato potenziale di riferimento ma dobbiamo pensare a quello che sarà tra due o tre anni il mercato potenziale di riferimento proprio in virtù di questa evoluzione di abitudine nell'utilizzo dello schermo arrivano al 2020 che per noi è un anno importantissimo perché per tanti fattori uno, ripeto, abbiamo già pianificato l'immissione sul mercato di nuove tecnologie quindi che sicuramente aiuteranno la brand awareness parliamo di XD, Laser TV, 8K l'evoluzione dei 4K e 2020 europei, europei di calcio siamo sponsor degli europei di calcio quindi avremo un mese di visibilità molto ma molto alta che noi già stiamo organizzando per un pre-europei in un post europeo quindi ci aspettiamo sicuramente delle cose molto positive ed ucciso in fondo sicuramente le proiezioni dei numeri per il 2020 nel mondo TV saranno decisamente più positivi rispetto a quelli che stiamo vivendo nel 2019 quindi una combinazione di fattori positivi che se lavoriamo bene così come abbiamo fatto negli ultimi anni ci permetterà di raccogliere degli ottimi risultati grazie